secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non era sua la bancaretta direi proprio di no direi proprio di no vai a fare in culo vai a fare in culo e deve di rispettarmi non posso tirargli un pugno in faccia perché sono in diretta ma perché andate a ritorno perché sono da toscano sei ore e non ha detto se ora e ritorno ma poi tutti i giorni ero in macchina porta a trovare due coglione e poi quando sono tornata la canzio ha trovato la sua presa a casa no 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 ti sono entrati in casa tutto me l'ho scippato no cazzo mi spiace ma mi spiace porca puttana ho tre note la bustina fossile è partita è in viaggio secondo me martedì arriva cazzo ci apriamo una fossil in live figo ah la barra per kia twitch sta sotto a 6 a 83 su 100 dai ci siamo ragazzoni fantastico fantastico so che molti volevano che io fossi a giocare a fortnite però ho anche altri interessi nella vita tra cui suonare la batteria no non voglio sapere nulla 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 non ce la faccio raga si lo vado a prendere pomeriggio tacos ha preso un 9 pomeriggio ragazzi diventerò possessore di un io raiccio psa 9 no no com'è possibile com'è possibile com'è fatto a vincere i lumi la frase di mia nonna quella che ha scritto domani è un altro giorno la nonna quando gli hanno dato l'esame da fare me l'ha dato qua cazzo magari dopo il concerto qua non c'ho spazio sotto qua dovete capire ragazzi no raga ti prendo il telefono? sì voi siete? WRC WRC no sì ma lei doveva dirlo qui siamo WRC sono WRC Italia ragazzi e vi giuro è una cazzo di figata grazie ragazzi ciao 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 c'è un po' spaventata un fantastico pacchetto e non solo questo a limited del set base vi ricordo potete venire qui a Bergamo a trovarli e a trovare quello che vi serve vi ringrazio per essere stati qua un applauso anche ai ragazzi che sono qui a vedere grazie ciao ragazzi buona serata a tutti ciao grazie come presidente sei il volto del tuo team ma abbiamo una chicca per te con Air Action Vigor Soul Gaming Boost anche la tua community può entrare in gioco e aumentare il tuo punteggio in classifica è vero raga questo ne avevamo parlato e fra poco vi sento non è di chicca non profuma se non ci sono dentro le chicche come? vincendo naturalmente durante la live infatti gareggiando sulla mappa di Fortnite di Air Action Vigor Soul ci sono tanti punti extra da guadagnare siamo sicuri che infiammerete la Lega la gloria ti aspetta keep it fresh gli amici di Air Action Vigor Soul poi c'è scritto sotto questo da leggere prima di aprire il pacco signori apriamo il pacco sono curioso sono curioso sono curioso e vediamo un pochettino attenzione non è niente che ci interessa uccello volante non sappiamo Jinx bello molto bello questo Jinx assomiglia un po' alla pari no non dica per quanto sia assomiglia un po' alla pari la sta dicendo i capelli cerchi di salvare i capelli salvi il salvabile salva e salva bello questo Butterfree però non le piacciono Badafi non le piace Raffaline no niente niente fra abbiamo una Pokeball però vediamo comunque le altre per onore del vero e della cronaca niente oh c'è Sill Sill c'è scritto Pokeball 60 è quello di prima è quello di prima Electrode quindi dici no chi è 60 Pikachu non era perché e chi può essere male ah no Electrode Electrode allora io cambio dico Magrimite easy no no è full art non so cosa fare non so cosa fare e che cazzo niente non pusciamo più vaffanculo a quella puttana di merda che porco diavolo doveva sucarselo invece che partorirlo sta puttana non se lo poteva ingogliare ma quante cazzo di cure aveva sta merda dai raga faccia le cose giuste per cortesia 110 110 tosto eh ma non è Kangaskhan che è un'evoluzione cosa dice sarà questo qua ma per favore per favore Firo bianco bianco giro dai minchia bella male qualcosa no 60 Caterpie un bel sprout bravo sì questo è bel sprout ecco così riesco a parlare meglio bustina fossil italiana del 2000 qualcuno mi guardi il trick del fossil per favore si sbusta si sbusta alle 1 e mezza bellissima buona fiera ragazzi buona fiera buona fiera beh pokemon va tanto chiaro che c'è raga ci sta cos'è bello lo snorlax ciccione obesissimo meraviglioso se me la dai chiudono la prendo se me la dai chiudono la prendo che cosa amo anche a me mi è arrivata una cosa io ne due io ce l'ho qua la tengo in inquadrature per sempre lo dico è un lavoro io la faccio le approfitto per mettermi in full cam e farla rivedere ai ragazzi ah i reaction vigor sono oggi ci ha regalato queste ragazzi dai che ci siamo è tocca a noi dai che ci siamo quanto è bella devo mandare un messaggio a zacca e vi giuro che è pesantissima questa cosa raga ed è stupenda raga è stupenda la metterò qua che si può vedere un ricordo meraviglioso ragazzi un pezzo unico davvero davvero bellissima stupenda tornato pizzi intanto stiamo partendo qual è il per più sottovalutato di quest'oggi io semplicemente perché non mi va ad impegnarmi io ma cattolica è diversa compriamo una casa cattolica amo guarda che puoi fare non mi piace il mare di là ma ci sta è compriamo una casa qua in abruzzo figa di estate proprio qua la mia comprensione all'estero dici voglio dire ho una casa all'estero ci facciamo allora me la comprensione compriamo una in Sicilia come quando sei andato in affitto attraverso il centro minchia Ellie in colazione